Grave incidente sul lavoro a Lucca. Un operaio della Gesam è rimasto ustionato su gran parte del corpo a causa di un ritorno di fiamma mentre stava lavorando al cantiere per la sostituzione delle tubazioni del gas a San Concordio. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello dall'elisoccorso Pegaso, atterrato sugli spalti delle mura davanti allo stadio. L'incidente, come detto, si è verificato al cantiere attualmente aperto tra via Urbiciani e via Consani a San Concordio. L'uomo era al lavoro con altri colleghi su una tubazione quando è stato investito da una fiammata. Il calore ha deformato fondendola anche la transenna in plastica che delimita il luogo di lavoro. Subito è scattato l'allarme e l'operaio è stato trasportato in ambulanza a Porta Elisa per il rendezvous con Pegaso. Le fiamme hanno ustionato anche un secondo operaio ma in maniera più lieve. L'uomo è stato portato al San Luca. A San Concordio, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della medicina del lavoro dell'ASL Toscana Nord-Ovest per ricostruire esattamente quanto accaduto. I carabinieri hanno anche regolato il traffico su via Consani dove si sono formate lunghe code.